Presidente, questo è il K2, la madre di tutte le montagne, la vetta più insidiosa del mondo. Anche gli americani hanno fallito lassù. E perché dovremmo riuscirci noi? Loro sono vincenti per tradizione, risorse, tecnologia. Noi cosa abbiamo? I migliori alpinisti del mondo. Bonatti, Lacedelli, Compagnoni. Signori, oggi è inizio la nostra sfida alla storia. Fa proprio paura. Per loro il K2 è sacro. È come un dio. Io me ne vado su. Non è uomo che sceglie le montagne. Montagne, scegli. Quindi andate su, voi due. Abbiamo solo le maschere. Voglio che sia lei ad andare in vetta. Ma io sarò lassù, insieme a voi. E compagnoni, saib. E lacedelli, saib. Ma qui non ci sono. Dobbiamo tornare giù subito. Non può sopravvivere senza una tenda. La vuoi piantare? Spiriti di scioccoli, alla volta avanzo padri. E sopravvivere. Lino! Achille! Ehi! 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 Ehi!